Buon pomeriggio e bentrovati a questo nuovo appuntamento con speciale interviste. Oggi ci occupiamo di un tema molto delicato, quello della sicurezza del cosiddetto popolo della notte, dei pubblici esercizi nelle discoteche, un tema che nasce da una situazione che si è verificata soprattutto nel nord barese, in seguito ad alcuni fatti che hanno davvero scioccato la pubblica opinione. Ne parliamo e siamo particolarmente lieti di averli con noi, con due ospiti di prestigio, che sono Nicola Pertuso, grazie per essere con noi, presidente regionale della FIPE, la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, oltre che presidente del SILB, che è la speciale associazione dei locali da ballo e che quindi si occupa esattamente di questi argomenti. E poi parliamo con il direttore di Confesercenti della provincia Abbat, ne parliamo con Mario Landricina, grazie per essere con noi. Anche la Confesercenti è ovviamente direttamente interessata a questi argomenti. Nei giorni scorsi, proprio in seguito agli ultimi episodi, quello di Barletta che ha portato purtroppo alla morte addirittura di una persona e al gravissimo ferimento in discoteca a Biceglie, il prefetto ha convocato immediatamente un vertice portando a compimento un atto che è in itinere da parecchio tempo e che si occupa proprio di questi argomenti. Uno degli ispiratori di questo progetto di sicurezza è stato proprio Nicola Pertuso. Di che si tratta esattamente? È un protocollo che proviene comunque da un protocollo nazionale, quindi non è una cosa improvvisata ma una cosa ragionata anche a livello ministeriale. Sostanzialmente si parla di collaborazione tra le forze dell'ordine e i gestori dei locali da ballo. Collaborazione che normalmente c'è già stata in passato ma non c'è stata mai un documento che ha un po' sancito le modalità e soprattutto i criteri nei quali bisognava realizzare questo tipo di collaborazione. È un protocollo molto utile per i gestori dei locali perché fa in modo che le forze dell'ordine possano essere più vicine ai gestori e quindi possa dare più sicurezza ai giovani che frequentano queste strutture. Devo dirvi che in particolare si può fare un'opera anche preventiva attraverso questo protocollo perché questo protocollo parla anche di segnalare le manifestazioni illecite o comunque tutti i fenomeni sospetti, quindi ci può essere un lavoro preventivo. Ricordiamo a Torino un rave party, quest'estate un altro rave party con più di 10.000 persone che hanno creato disagio. Ecco, all'interno del nostro protocollo per esempio c'è la possibilità che i gestori segnalino in anticipo questi fenomeni perché possono segnalarli i gestori perché hanno notizia prima rispetto a... Avete il polso della situazione. Abbiamo una serie di sensori sul territorio che sono i giovani, che sono i collaboratori, che sono i PR, che sono il personale, lo staff. Si viene a sapere di queste manifestazioni illecite che si svolgono normalmente in locali non autorizzati, quindi non hanno proprio le uscite d'emergenza, gli impianti di sicurezza, gli antincendi, c'è una serie di strutture e poi, come è noto, si fa uso e consumo di droghe, di alcol. Questo è un piccolo esempio di prevenzione, ma c'è tanta altra roba all'interno di questo protocollo. Ci arriviamo tra pochissimo. Ecco, anche voi come confesarcenti avete condiviso questo percorso? Sì, no, l'abbiamo condiviso, come si diceva, fin dal livello nazionale, quindi chiaramente è un protocollo che è riservato sicuramente di più, diciamo, ai locali labale e alle discoteche, ma sappiamo bene che poi nei pubblici esercizi in generale, ma anche che ne sono agli stabilimenti balneari, avvengono frequentemente episodi di pubblico spettacolo in cui si possono comunque avere le stesse problematiche di quei ricordati rave o comunque non di 5.000, ma sicuramente con un bel numero di persone che chiaramente tenerle sotto controllo non è una cosa semplicissima. Tra l'altro i pubblici esercizi stanno continuando a faticare ancora oggi, dico una cosa molto semplice, a far rispettare l'ingresso con la mascherina, perché ormai di fatto sembra quasi tutto dimenticato, quando invece la recluscenza del fenomeno del Covid dovrebbe ancora… però purtroppo ci troviamo di fronte ai cosiddetti negazionisti che stanno mettendo in moto meccanismi anche sui social per i quali i pubblici esercenti si trovano veramente in difficoltà e fare un protocollo del genere ha significato per loro ancora di più responsabilizzarsi, perché si tratta di essere i promotori, dei fautori di un controllo, come si diceva, preventivo. Ecco, prima di entrare proprio nel dettaglio di questo protocollo, la sensazione che se ne ha, guardando dal di fuori, mi rivolgo a Nicola Pertuso, è che ci sia uno stato di profondo malessere dei giovani in questo momento, forse acuito anche dalla pandemia, per cui diventa davvero incontrollabile il fenomeno. Noi abbiamo visto non soltanto legato appunto alla paninoteca nel centro storico di Barletta o alla discoteca di Biceglie, il problema lo vediamo quasi tutte le settimane nel porto di Trani, dove ci sono le classiche scazzottate, le risse organizzate quasi, prima ancora di uscire di casa, ci si dà appuntamento quasi per darsi appunto, per scatenare una rissa. Ecco, come si fa a controllare questo fenomeno quando è così diffuso, quando è così complesso? Prima di tutto volevo dare un dato più rassicurante. Ah, ecco. Io sono 35 anni che mi occupo di questa materia e nel tempo i reati sono diminuiti. E questa è sicuramente una buona notizia. Sì, questa è una buona notizia. Chi ricorda bene quello che succedeva 30 anni fa, diciamo, succedevano cose anche molto più gravi. Bisogna ricordarselo perché sennò si ha una visione di storia. Certo. Però quello che lei dice è corretto. C'è tanta gente che purtroppo, e non lo dico io, lo dicono i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, soprattutto tra i giovani, c'è un consumo più elevato di alcol e anche un consumo più elevato di sostanze. Credo che questi siano i principali problemi che non sono da affiancare, diciamo, ai locali, in sé appunto. È proprio un consumo che avviene e che ci sono dei pubblici esercizi che probabilmente non somministrano correttamente gli alcolici, perché, come sappiamo, al di sotto dei 16 anni non si possono somministrare gli alcolici e quindi, diciamo, per la verità, da un po' di tempo al di sotto dei 18 anni, perché prima era 16 anni, adesso è diventato 18 anni. Però, ritornando alla questione del... diceva bene, i gestori sono abbastanza messi male, perché, come dice il testo unico di pubblica sicurezza, il gestore di un locale deve organizzare un po' la sicurezza del proprio locale. Se non è in grado di organizzare la sicurezza del proprio locale, intervengono delle norme di pubblica sicurezza che portano addirittura alla chiusura delle strutture. Però stiamo avendo degli strumenti che ci stanno un po' agevolando, perché, per esempio, di recente si è cominciato a fare i daspo per coloro che si comportano male all'interno dei locali, cosa che prima non succedeva. È certo, perché persone che notoriamente sono adite all'erisseo, sono adite allo spaccio, una volta segnalate, il questore può fare un provvedimento nel quale dice in quella città, in quel locale, in quella area, lei non deve più andare perché le è interdetta. È il daspo, sostanzialmente il daspo. È chiaro che noi gestori dobbiamo riorganizzarci dopo la pandemia anche con strumenti tecnologici, abbiamo delle idee che stiamo portando avanti che potrebbero aiutarci per poter... Sì, perché bisogna accedere poi alle banche dati, perché altrimenti mica a memoria si può bloccare chiunque. Infatti, noi abbiamo in genere davanti alla porta personale che si occupa di selezione e di sicurezza. Lei ha parlato del Norbarese, ma sabato scorso c'è stata una sparatoria davanti a un altro locale di Bari. Certo. Proprio perché un buttafuori ha vietato, ha bloccato l'ingresso a un pregiudicato armato. Quindi capite bene che difficoltà. Questa persona ha fatto il suo dovere e è stato raggiunto da due proiettili di un pregiudicato che poi fa parte di una notta famiglia barese. Quindi siamo abbastanza soli in questo. Bisogna un po' riorganizzare la sicurezza. Dico, questo è il dato forse più preoccupante, perché è facile criminalizzare il gestore del locale. Ma immaginate che voi teoricamente non potreste neanche fare selezione. Cioè, essendo un pubblico locale, se viene una persona normale, vestita normalmente, senza che in quel momento non dà segni di escandescenza, dovete ammetterlo. Non potete fare azione di perquisizione. Su questo, proprio su quel protocollo, ci sono delle novità molto utili ai gestori. Perché in passato, come giustamente lei dice, discriminazioni razziali di genere non se ne possono fare. Però, se una persona è conosciuta perché è uno che ha creato problemi di ordine pubblico all'interno o davanti al locale, il gestore in questa occasione si può rifiutare l'accesso. Anche se ha un abbigliamento non consono alla serata. Certo, ed è un altro, anche questo è importante. Sono novità perché in passato, come giustamente diceva, si pensava al locale pubblico che dovesse essere consentito a tutti l'accesso. Invece, diciamo, stanno cambiando delle cose a favore dei gestori che hanno anche un altro diritto, cioè il diritto della libera impresa. Se io voglio fare impresa, voglio fare entrare soltanto persone vestite bene, che abbiano un certo contegno, abbiano un certo profilo, la mia impresa è organizzata così e quindi consentirò l'accesso soltanto a queste tipologie di persone. E questo è sicuramente importante. Ma tornando al problema sociale? Il problema che hai impostato effettivamente avrebbe bisogno di una puntata. Nei vari incontri che abbiamo fatto con il prefetto, ricordo che noi tra l'altro abbiamo sottoscritto patti per la sicurezza in ogni città della BAT, in cui ci stanno una serie di provvedimenti, di attività, tra cui il DASP urbano, le attività formative, i progetti di videosorveglianza che stentano a decollare per vari motivi che adesso sarebbe lungo anche dire. Abbiamo sempre tirato fuori l'aspetto culturale, scolastico, cioè legato anche agli aspetti di vita, vissuta, in famiglia o nelle scuole. Devo dire che probabilmente più in famiglia arrivano, abbiamo problemi che nelle scuole che si sforzano insieme anche alle associazioni di categoria di mettere su iniziative che possono far comprendere ai giovani. Io però ho un segnale sicuramente positivo che i reati di più vasta natura, di più grossa entità sono diminuiti. Altrettanto vedo che problemi legati alla disoccupazione e all'uso effettivamente abnorme di alcol e di droga alimentano una percentuale altissima di questi fenomeni e non credo che si possa pensare che si possa mettere un poliziotto per ogni famiglia o per ogni ragazzo. Quindi la cosa è molto complessa e siamo arrivati a un punto limite per il quale io credo che ciò che si sta facendo è indispensabile, il minimo indispensabile. Infatti, come si diceva prima, probabilmente noi siamo anche messi più di fronte ai dati di responsabilità del passato. Tra l'altro il protocollo prevede anche delle premialità per chi comunque mette in moto o regolamenta la propria sicurezza nel pubblico esercizio e quindi dimostra alla forza dell'ordine. Facciamo un esempio. Ma che ne so, lo stesso chiamare, fare una chiamata e dire che è entrato un soggetto particolare è già un elemento per cui qualifica quell'esercente come collaborante e non come spesso avviene a parecchio mertoso. Perché poi sappiamo anche che molti esercenti, ma non neanche per colpa loro, poi i medie sono messi in moto, si mettono in un meccanismo tale per cui i ricatti continui lo pongono di fronte. Non dimentichiamo che queste cose le avevamo previste nelle riunioni di prefettura del periodo Covid, in cui avevamo già detto che le ennesime chiusure avrebbero portato comunque al tentativo di infiltrazioni malavitose che comunque sono quelle che sono più disponibili a rendere fruibile il danaro per la sopravvivenza, perché all'epoca non dimentichiamo di questi momenti. Noi abbiamo faticato parecchio anche a tenere a bada molti episodi, sempre come si dice diffusi attraverso i social, che parlavano di soggetti che mettevano in moto meccanismi pericolosi e dimostrazioni che abbiamo avuto anche sotto i comuni. Insomma, noi siamo stati, devo dire, bravi in questa provincia Abbatte. Poi c'è il problema endemico di una provincia nata male. Io non credo che il procuratore Nitti si inventi la dichiarazione che fa. Io quindi credo, anzi, sono dell'opinione che in questo territorio... A proposito della pressione che viene da Foggia e da Bari e che fanno del territorio Abbatte un territorio Cuscinetto. E non è soltanto un territorio che poi alimenta questo durante l'esercizio delle attività. Ma noi sappiamo benissimo che dovremmo controllare ancora di più e maggiormente la titolarità dei pubblici esercizi. Gli investimenti nel settore del turismo sono enormi e spropositati perché sono i settori in cui la percentuale di redditività è molto alta e quindi si può riciclare un sacco di denaro di illecita provenienza. Quindi, come vedi, il problema non è soltanto rivolto ai ragazzi o a chi per essi. Noi ci siamo permessi anche, nonostante il protocollo non lo preveda, di dire un paio di cosette. Noi, per esempio, abbiamo proposto al prefetto di inserire anche la possibilità di mettere dei contapersone e anche degli scanner facciali. Perché se si utilizzano tutti i database delle forze dell'ordine con gli scanner facciali è molto più semplice capire anche se quello con la giacca e cravatta è comunque un personaggio diverso dalla giacca e cravatta. Insomma, ci sono meccanismi per evitare di alimentare una frequenza molto superiore come spesso capita perché poi chiaramente ogni luogo pubblico o all'aperto o al chiuso ha comunque delle limitazioni dovute dalla sua autorizzazione di pubblica sicurezza perché chiaramente durante le commissioni pubblico spettacolo la vastità dell'esercizio, il detenere sicuramente attrezzi e attrezzature capaci di poter tenere sotto controllo il numero di persone qualifica quell'esercizio. Questo è davvero un problema perché il pubblico esercizio in questo caso si trova a dover a una sorta di conflitto di interessi. Da una parte la sicurezza, dall'altra l'interesse economico. Più gente c'è, più spende e più ovviamente c'è possibilità di guadagno. Se posso fare un passaggio su una cosa importante che ritengo, ha detto Mario Landriscina e che credo che sia forse l'elemento più importante di quello che è successo ieri e di quello che vorremmo fare. Cioè noi vorremmo provare a investire energie sulla sicurezza partecipata ed integrata. Cioè che significa? Cominciare a far diventare gli stessi gestori, gli stessi esercenti, gli stessi collaboratori degli esercenti strumenti utili per salvaguardare la sicurezza del nostro territorio. Cioè incominciare a diffondere la cultura della sicurezza e della legalità. cioè è un argomento importante ma si risolvono così le cose. Un progetto ambizioso. Cioè incominciare a incrociare i dati. Se c'è una persona che vede una cosa e non la dice non va bene. Se c'è una persona che vede un fatto illecito e incomincia a comunicarlo incominciamo a smontare una macchina pericolosissima dell'illegalità. Quindi sostanzialmente gli argomenti più importanti, soprattutto per la BAT, perché quando vediamo che i dati dei furti delle auto ci dicono che siamo la peggiore, una tra le peggiori province d'Italia, probabilmente dobbiamo dirci come mai non c'è anche gente che denuncia o che diciamo… c'è tutto un meccanismo che bisogna cominciare a scardinare. E se non si cominciano a dare informazioni, adesso parlavamo anche se c'è qualcuno che vuole entrare nel tessuto imprenditoriale, gli altri imprenditori lo sanno, bisogna che comincino a raccontarlo alle forze dell'ordine in maniera magari riservata all'inizio perché non possiamo esporre delle famiglie. però il vero argomento è questo, cominciare a cambiare modo di pensare, perché purtroppo nella BAT abbiamo il 90% delle persone, dico una percentuale, che è omertosa, non ne vuole sapere nulla, dice io vedo una cosa ma non la dico perché ho paura per me stesso, è un 10% che invece vorrebbe una provincia più pulita, più legale. Quindi questi sono secondo me gli argomenti più importanti. Ritornando invece alla tua domanda, i locali di pubblico spettacolo a differenza dei pubblici esercizi hanno delle capienze ufficiali stabilite dalle commissioni di pubblico spettacolo, in genere sono principalmente i vigili del fuoco che danno queste capienze, le capienze sono in genere fatte in base alla superficie dei locali, in base alle porte di emergenza, agli impianti che ci sono e quindi i locali dovrebbero attenersi a questo tipo di capienza. Succede, tante volte succede, qualche volta non succede come in tutte le attività, dipende dal gestore. Ecco probabilmente in questo momento, venendo da due anni di pandemia e quindi di chiusure, il bisogno di poter monetizzare le riaperture spingono magari a pensare che se mettiamo qualche centinaio di persone in più, non succede niente, sperando che non succeda nulla e si cerca di recuperare il tempo perso. Può essere una… Guardi, proprio perché abbiamo una riduzione di capienza al 50% delle discoteche, non possono mettere più del 50% di capienza, credo che bisognerebbe rispettare questo tipo di percentuali proprio per quello che viviamo quotidianamente, dove ci sono poi assembramenti. È anche vero quello che dice, tanti imprenditori che hanno sofferto per 20 mesi hanno necessità di monetizzare per poter pagare debiti, per poter pagare… Per poter andare avanti. Però la salute viene prima di tutto, come abbiamo sempre detto. Ecco, allora entriamo un attimo nel dettaglio di questo protocollo. Faccio la stessa domanda ad entrambi. Qual è l'elemento più importante, secondo Nicola Pertuso e secondo Mario Landricina, contenuto in questo protocollo? Qual è l'innovazione che potrebbe dare veramente una svolta? Io l'ho detto dal primo momento, per me la cosa più importante è la tempestività nella comunicazione tra gestori e forze dell'ordine. Se io vedo una cosa che non funziona, un reato, e devo andare in caserma, devo andarlo a denunciare, poi devono fare l'indagine, non abbiamo concluso nulla. Se invece ho gli strumenti per poter comunicare immediatamente, tempestivamente, dice il protocollo, riesco a poter ottenere dei risultati. Come dire, basta fare una telefonata al comando… Sia per cose che stanno succedendo durante le manifestazioni, ma anche per cose che potrebbero succedere dopo, quindi fase preventiva, una denuncia preventiva, affinché poi non si realizzi qualche fenomeno, diciamo, illegale. Io credo che se per sé il protocollo è già un atto di novità, anche se comunque mette insieme tutta una serie di norme che abbiamo espresso al prefetto, esistevano, già esistono comunque. Forse il fatto principale è questa collaborazione richiesta che dovrebbe concretizzarsi nel circuito e nella rete tra associazioni, ma tra associazioni SUAP, quindi gli uffici comunali che sono dediti al rilascio delle autorizzazioni, le forze dell'ordine. Mettere insieme questa rete non è che sia una cosa semplicissima. Lo stiamo verificando anche adesso con i sistemi di videosorveglianza. È una cosa che discutiamo da un anno e mezzo, ma che ancora oggi chi ha perlomeno cominciato a sperimentare questo sistema, non sempre il sistema funzioni. Ed è molto importante avere a disposizione le immagini direttamente dalle forze dell'ordine. Io credo che sia un fatto, come si dice, comunque... Ma è un problema economico? È anche un problema economico. Noi ci siamo sforzati di chiedere ai comuni almeno di compartecipare alla spesa, perché spesso e volentieri... Intanto, vabbè, c'è anche qui un fatto culturale che fa riferimento anche a quell'omertà che dicevamo di molti che preferiscono non mettere a disposizione immagini, sempre per i soliti motivi, quindi magari non neanche si caricano di questa idea di mettersi le telecamere. E poi comunque il costo, spesso e volentieri, in questo periodo, incide, perché avevamo chiesto ai comuni di prendere un minimo veramente risiccato dei propri bilanci, metterlo a disposizione per poter favorire, almeno favorire noi che comunichiamo alle aziende di potersi comunque dotare di queste videocamere direttamente. Tra l'altro aggiornare quelle esistenti, perché spesso e volentieri ci sono già, ma sono videocamere che non riescono a trasferire il dato che serve. Poi credo che comunque il protocollo sia importante perché presuppone tutta una serie di attività, come dicevamo prima, dal risvolto sociale, scolastico, sociale, familiare. Noi dovremmo mettere in campo delle iniziative e se mi permetti, ritornando al discorso di prima, molto ampio, la responsabilità sociale diventa anche politica, perché se spesso e volentieri il protocollo è riservato non soltanto a noi associazioni e ai gestori associati, ma è riservato anche a tutti coloro i quali devono, non possono far finta di non conoscere questo protocollo, tant'è che abbiamo chiesto che venga dato già direttamente dai SUAP ai gestori. È anche altrettanto vero che noi lo possiamo comunicare, però spesso e volentieri, un certo tipo, un modo di fare politica spinge spesso molti gestori a stare lontano dalle associazioni, perché certe volte è più facile dialogare con la politica. Sembra una cosa filosofica, ma ti garantisco che noi abbiamo molte difficoltà a interloquire ultimamente con le pubbliche amministrazioni, perché la partecipazione in cui si faceva riferimento è spesso decantata, illustrata, ma poi nel concretizzare diventa poco praticata. Ecco, giusto per dare ai nostri telespettatori un quadro d'insieme della situazione, possiamo dire come è organizzato, quanti sono per esempio gli esercenti, i bar, quanti sono i ristoranti, quanti sono i locali da ballo nel nostro territorio? Abbiamo qualche dato, qualcosa, ovviamente a memoria, quindi non è successivo. Sì, io ho sicuramente i dati dei locali da ballo, ma non ho i dati dei ristoranti e dei bar. È molto complicato. No, dalla Camera di Commercio. La Camera di Commercio puoi sapere il dato complessivo. Abbiamo, c'è uno specchietto, diciamo, abbiamo dei numeri importanti di pubblici esercizi e di attività. E con questo... I locali da ballo vero e proprio, poi alla fine se togli divine follie, non è che... Eh, va bene, no, abbiamo una ventina di licenze di pubblico spettacolo. Di pubblico spettacolo, però diciamo quello proprio... Cioè, nel nord barese, diciamo, bisogna anche ricordarsi che c'è Canoosa, ci sono anche le spiagge di Margherita che sono autorizzate, c'è la Trani, ci sono diversi locali, a Biceglie, diciamo, al momento ce n'è soltanto uno. O meglio, uno, ce ne sono molti estivi e uno... Le licenze sono una ventina, diciamo, di... Anche qui c'è lo stesso problema che segnalavamo prima, cioè, quando io prendo un'autorizzazione di pubblico esercizio, la discoteca è discoteca, poi ci stanno i pubblici esercizi che si dotano, magari utilizzando spazi esterni, capitano spesso, a Trani ce ne sono, ma lì è complicatissimo poi rispettare quell'autorizzazione, perché essendo poi spazio all'aperto, chi li controlla? Questa cosa qua, secondo me... Quella è un'attività di abusivismo, perché coloro che hanno un'autorizzazione per fare il ristorante, poi... Si dotano di questa cosa parziale. ...fanno invece, tirano via i tavoli e fanno discoteca, non avendo nessuna autorizzazione di... No, ma spesso la prendono. Se la prendono, stanno a norma, ma se non la prendono sono assolutamente anche loro illegali. Ecco, per esempio, ovviamente siamo ormai già proiettati verso l'inverno, quindi non è un problema imminente, però anche le spiagge, i gestori delle spiagge, si troveranno l'anno prossimo a dover fare i conti con questo protocollo, che li mette di fronte ad una serie di responsabilità importanti, perché spesso abbiamo visto, specialmente sulla costa di Barletta in particolare, i gestori dei lidi che la sera improvvisamente si trasformano in grandissime discoteche. C'è un problema anche lì di ordine bucciato? C'è un grande problema, è un problema di abusivismo. Come dicevamo prima, coloro che hanno le autorizzazioni di pubblico spettacolo sono stati sottoposti a verifiche importanti da parte di una serie di enti, in primis quella dei Vigili del Fuoco e della Commissione di Pubblico Spettacolo. E quindi chi si improvvisa invece non ha fatto questo iter e quindi non è a norma. Come lei giustamente diceva, su molte spiagge succede proprio questo, nel protocollo c'è una parte importante nella quale si dice che i gestori possono segnalare, i gestori di locali di pubblico spettacolo autorizzati possono segnalare le attività illecite, quindi se poi vengono segnalate e si verifica che sono sprovviste di autorizzazione di pubblico spettacolo, quelle manifestazioni illegali possono addirittura essere bloccate in anticipo. Quando non vengono bloccate è successo in passato che il questore ha posto sotto sequestro degli stabilimenti balneari, dei ristoranti, perché faceva un'attività illegale, in assenza di autorizzazioni di pubblico spettacolo. Ecco, l'altro problema da affrontare è quello di cercare di dare anche da una parte le responsabilità appunto ai pubblici esercenti, dall'altra avere la vicinanza delle forze dell'ordine, lo diceva prima. Le forze dell'ordine vi sono sembrate disponibili, pronte, anche dal punto di vista numerico, perché sappiamo che la BAT si sta di fatto strutturando proprio in questo momento, abbiamo avuto, sono appena due settimane, la caserma dei carabinieri di Trani che è diventata compagnia della BAT, la guardia di finanza di Barletta che da due settimane è diventata compagnia della BAT e la stessa cosa dalla questura di Andria, ormai sono un paio di mesi che è in attività. dal punto di vista del personale pian piano si sta rimpinguando, proprio qualche giorno fa a Biceglie l'ex ministro Boccia ha confermato che stanno arrivando gli agenti previsti per le tre compagnie. Ecco, a che punto di relazione siete? Io ho percepito un clima molto positivo, queste cose poi le fanno gli uomini, ci può essere un periodo di tempo, quindi parliamo anche di anni, in cui non c'è quel clima di fiducia tra i gestori e alcuni componenti, i vertici delle forze dell'ordine, alcuni componenti di fiducia, nascono delle collaborazioni interessanti che poi fanno bene a tutti. Io ho parlato con il prefetto anche qualche giorno fa e ho voluto proprio chiarire questa questione, cioè che il protocollo diventasse poi uno vero strumento, uno strumento utile e quindi che si facessero delle cose e abbiamo convenuto che questo clima di fiducia lo possiamo subito creare perché gli uomini sono pronti a fare questo tipo di attività. Come si crea il clima di fiducia? Se già c'è uno scambio di numeri di telefono, se già c'è uno scambio di informazioni, se già si vede la disponibilità e si curano però queste relazioni perché poi noi siamo molto attenti, cioè dobbiamo segnalare delle cose importanti, non si segnalano delle cose, bisogna ottimizzare il lavoro delle forze dell'ordine, noi non vogliamo una pattuglia per ogni locale, vogliamo che ci siano degli interventi nei momenti opportuni, quindi se le informazioni sono precise, sono chiare e confermate poi quando vengono verificate, quindi questo è il lavoro giusto che bisognerebbe fare. Ripeto, il prefetto Variante è stato estremamente collaborativo, è il promotore di questa iniziativa, ho conosciuto il questore, il comandante provinciale dei Carabinieri, io ritengo che si possa fare un ottimo lavoro con loro. Sì, no, per noi non era una novità perché già li incontriamo spesso, come dicevo prima, quindi abbiamo sempre visto, c'è un'ottima disponibilità, il prefetto tra l'altro è una persona veramente molto dinamica e concreta, molto pratica, per cui stiamo seguendo parecchi tavoli, devo dire, gli dà continuità e anche le forze dell'ordine sono sempre disponibili, anche se io mi sono permesso di chiedere all'articolo 11 di aggiungere anche una clausola di riservatezza perché in questi casi non fa mai male, perché capita spesso, almeno in passato è capitato, che si segnalano certe cose e poi si viene additati e questa cosa è molto antipatica, mi sono permesso di segnalarla perché diventa anche rendere agevole la segnalazione è la cosa principale, perché un conto sono i vertici delle forze dell'ordine su cui c'è la massima collaborazione, poi chiaramente quanto l'input viene dato a cascata sulla base e chiaramente come si diceva, gli uomini fanno... Che tipo di reazione su questa richiesta? No, devo dire, è sempre stata presa sulla richiesta, non è stata inserita nel protocollo, ma noi ritorneremo certamente a bomba perché poi abbiamo fatto anche come si dice una iniziativa formale, abbiamo firmato il protocollo e l'abbiamo discusso pure dopo perché poi c'erano i giornalisti che dovevano comunque, quindi non valeva neanche la pena impegnarsi, ma siccome ci vedremo spesso e volentieri su queste cose, questa questione... Verbalmente di fatto è stata detta questa cosa ed anzi è stata una pietra migliare, cioè poter ottenere informazioni o denunce dagli imprenditori in maniera esplicita non è sempre facile, assolutamente, quindi bisogna prima di tutto avere la consapevolezza che non possiamo esporre famiglie, imprese alla merced, diciamo, dei delinquenti, quindi questa cosa è importante. Credo che abbiano tutti inteso quello che intendevamo dire. Sì, sì, sicuramente. Certo. Ecco, abbiamo detto che ci sono tantissime attività, queste tantissime attività presenti sul territorio costituiscono una sorta di comparto economico fondamentale per questo territorio, che è quello del comparto del ricettivo e del, chiamiamolo, popolo della notte, della movida, tanto per intendersi, tanto per capire qual è il fenomeno, ma che è da una parte visto come il divertimento, ma è anche, soprattutto, lavoro. Voi date lavoro davvero a tante famiglie e questo è un momento particolare. Avete sofferto tantissimo. Quali sono le previsioni per il domani? Sì, ecco, hai colto una cosa importantissima. Quando si parla di turismo, si immagina che il turismo sbuchi da un giorno all'altro. Certo. Non è così. Ci vogliono generazioni di imprenditori turistici per far diventare un'area turistica. Noi, come sappiamo, la vocazione del Norbarese era una vocazione manifatturiera, avevamo tanti laboratori, fabbriche. Da più di dieci anni è andata in crisi questa roba e quindi moltissimo si sta investendo nel settore del turismo. Bisognava reinventare un futuro. Ecco, questa cosa dell'apertura di tanti locali, di tanti ristoranti, di tanti locali serali, è proprio il primo passaggio imprenditoriale per poter poi fare esperienze più importanti. Io dico la prima generazione di imprese turistiche. Quindi parla proprio di prima generazione. Io parlo di prima generazione, pure se ci sono degli imprenditori dell'alberghiero. Mi sembra interessante. Io ritengo che noi siamo alla prima generazione. Secondo noi il fatto di aver capito che il Norbarese possa avere delle potenzialità turistiche è una cosa di questi ultimi dieci, forse quindici anni. Anche per evitare di confondere il turismo, le presenze turistiche con i residenti delle città limitrofe che il sabato, venerdì, sabato e domenica si riversano sulle altre città. Quello non è turismo. Quello a cui fate riferimento sono proprio i flussi turistici importanti. Esatto. Se pensiamo per un attimo a Monopoli e a Polignano, che fino a dieci anni fa erano delle città abbastanza anonime e oggi la località più cliccata della Puglia è Polignano, mi fa capire come mettendo in atto delle strategie che sono degli esercenti e delle amministrazioni pubbliche, chiaramente con un territorio recuperato, perché Polignano è stata anche abbellita, recuperata. Io ricordo che le lame erano piene di pattumiere fino a dieci anni fa, le hanno ripulite. Se noi saremo in grado di fare questo tipo di attività, quella prima generazione di imprenditori potrà realizzare poi una seconda generazione di imprenditori turistici per poter fare il salto di qualità. E credo che il nord barese non ne abbia nulla di meno rispetto a quello che sta succedendo nel sud barese. Ecco, questa mi sembra una valutazione molto interessante, perché noi da sempre ricordiamo le campagne elettorali di città come Biceglie, Trani, Barletta, la vocazione turistica del nostro territorio e poi rimaneva sempre... Però se posso consentirmi, sarà che io forse sono il più anziano di tutti voi, un po' le studiamo queste cose, noi qui siamo stati, a Trani in particolare, l'azienda autonoma soggiorno del turismo, anni 60, circuiti turistici nazionali, cioè la bussola aveva la lampara. Il festival di Trani. Il festival di Trani. Quindi diciamo che quella effettivamente è stata la primissima generazione. Poi l'abbiamo persa, come diceva lui... Fu una generazione inespressa, perché... Sì, perché poi alla fine è arrivata l'industrializzazione, facciamo i laboratori, prendiamo il tacco... Ma più che altro arrivò la ricchezza della pietra... La ricchezza della pietra... Che fece dimenticare la possibilità di investire nel turismo. O perlomeno, la fece mettere in secondo piano, poi chiaramente il modo di fare politica era quello poi di andare su un unico settore. Oggi noi comprendiamo che ci deve essere in un territorio la capacità di fondere, di essere più eterogeneo nello sviluppo economico, perché se oggi c'è in crisi l'industria, probabilmente l'agricoltura cresce, o viceversa il turismo, o perlomeno tutti i settori possono essere, comunque farli confluire nello sviluppo del turismo, perché oggi abbiamo uno sviluppo del turismo legato alla capacità di vendere un territorio, di vendere la sua caratteristica, la sua dignità antica, storica. Noi in particolare possiamo benissimo fare un turismo legato, che è culturale, e quindi diciamo è semplicissimo poi da un certo punto di vista. Il problema vero è che noi qui non abbiamo mai sedimentato una cultura dell'aggregazione, perché la cultura dell'aggregazione ti fa diventare un polo, ti fa diventare, come si dice, ti fa crescere. Non è pensabile che oggi chiunque si improvvisi e faccia la più bella iniziativa possibile di questo mondo, ma vendersi da solo e non stare in un circuito turistico diventa complicato. Noi l'abbiamo avuto in Puglia. La blocco perché mi interessa sapere proprio su questo il parere di Nicola Pertuso, che oltre ad essere rappresentante degli esercenti, è lui stesso protagonista proprio con una serie di strutture ricettive del divertimento, della ristorazione. Ecco, quello che diceva Mario Landricina lo riscontra poi effettivamente. Cioè c'è difficoltà di dialogare con i suoi competitor sul territorio? Quando parlo di seconda generazione di imprenditori turistici, lo dico anche perché in passato un ristoratore guardava male il ristoratore che aveva a fianco. Era avversario. Oggi hanno capito invece che il polo di attrazione lo fa non solo la città, perché oggi non possiamo più parlare nemmeno di polo di città, noi dobbiamo fare un ragionamento per aree omogenee del territorio, Trani, Biceglie, Andria, Molfetta, Barlecce, è un'area omogenea e quando io faccio il riferimento di Polignano e Monopoli che ci sono legati anche con l'entroterra, con Cisternino, Martina Franca, noi potremmo un po' fare questo tipo di attività. Allora mi chiedevi che cosa sta succedendo. Io nel mio piccolo sto facendo già degli esperimenti molto interessanti e su questo diciamo credo che pure Mario è d'accordo perché stiamo provando, perché è una cosa che si sta provando a fare, provando a fare reti di imprese, mettere insieme un po' il lavoro che fanno anche le associazioni di categorie, quindi parliamo delle stesse cose. Prima era più complicato, adesso incomincia a diventare più comprensibile e quindi la sfida sarà questa. Per esempio il fatto che sia… E scusami se ti interrompo, è un'ultima cosa però voglio dirti che è importante. In passato si sono dilapidati ricchezze incredibili attraverso agenzie inutili. Quando io penso a Puglia Imperiale è un'agenzia che è scomparsa, non ha prodotto nulla. Se soltanto andassimo a vedere che cosa è stato speso per Puglia Imperiale ha fatto una promozione del nulla, dei nostri monumenti, alla fine abbiamo invece compreso che bisogna avere… In realtà questa non è propriamente… cioè bisognerebbe guardarla anche dall'altro lato, non sono stati messi neanche nelle condizioni di poter, dalla parte politica, di poter operare correttamente perché venivano tirati… Lo sai che io non condivido questa cosa, io ho fatto parte del Consiglio di Amministrazione e ti ho sempre detto che non è un errore. Io invece ritenevo e ritengo che la promozione si fa quando tu vai a vendere qualcosa… Se Puglia Imperiale non poteva promuovere nemmeno un'azienda, nemmeno un pomodoro o un bed and breakfast per dirti, chiaramente aveva dei limiti. Adesso non voglio dare la colpa a coloro che hanno… è uno strumento che non ha funzionato purtroppo, o meglio non ha prodotto i risultati che avremmo sperato di fare. Con quegli investimenti. Adesso bisognerebbe invece, dopo aver fatto queste esperienze, cercare di destinare delle risorse a reti di imprese, a consorsi, a gruppi di imprese, che debbano avere però a loro fianco i comuni, affinché si possa invece rilanciare quest'area geografica. Se posso riprendere scusa. L'idea che io mi sono fatto… Il discorso che lui ha fatto è una cosa finale, il discorso delle rate, con affianchi comuni, perché la verità è che la prima generazione ha scontato anche il fatto che se c'era qualche tentativo anche di privato, non si può investire in una cosa così grande che è infrastrutturale. Quindi tu, se non hai dietro alle spalle una governance partecipata, pubblico-privata, tu non la creerai mai. Perché ad esempio allora il Gal Pontelama, che mette insieme Molfetta, Bicelli e Trani, poi alla fine fa tante iniziative, però alla fine concretamente agisce poco. Perché sconta le stesse problematiche… Sì, ci sono i comuni, ma come sempre anche lì le quote consortili chiaramente sono in mano ai comuni perché sono quote maggioritarie. Se si alza Mario Landriscina che ha due quote che non conta niente, alla fine dice delle cose e lì rimarranno. Sono le stesse problematiche che avevamo nelle agenzie. E allora come intende la vicinanza dei comuni? Significa che i comuni devono star dietro, devono investire risorse, devono individuare all'interno delle associazioni, dei privati, le persone di riferimento che sono capaci di fare rete e come si dice loro, il comune, l'ente, l'istituzione diventare patrocinante di un'iniziativa privata che deve essere per forza privata, perché lasciate mano al pubblico, si è dimostrato ampiamente che non vanno da nessuna parte. Cioè più facile oggi che siano delle reti di impresa che intercettano dei finanziamenti comunitari, vedremo adesso anche col PNR che cosa succede, e avere però a fianco l'ente comune, l'ente diciamo, ma che non può essere l'ente che debba definire le strategie, deve essere partecipe di questa operazione di sviluppo. Qualcosa sta cambiando, perché pure i GAL un tempo con i GAL si facevano i marciapiedi dei comuni, i GAL sono per creare, animare il territorio, infatti adesso i GAL più correttamente servono per delle aziende che fanno degli investimenti, mettono in moto anche e soprattutto nel turismo. Rispetto a quello che diceva prima Nicola Pertuso, e cioè che adesso sta cambiando qualcosa, perché il competitor non è più visto come un avversario, ma come un possibile partner per creare opportunità, effettivamente vista dalla parte di un consumatore. Io ricordo tanti anni fa quando ci si organizzava tra amici, andiamo lì perché lì ci sono sette, otto locali, uno accanto all'altro, se non troviamo un posto da una parte, troveremo dall'altra. Ecco, il fatto che siano nate anche le cosiddette strade, la strada a Trani Zanardelli, oppure a Barletta ci stanno le strade del centro storico, questo significa che effettivamente i commercianti cominciano a dialogare fra di loro, è un segnale positivo? Ma è un segnale di maturità prima di tutto, bisogna anche dire una cosa, i consumi fuori casa rispetto a vent'anni fa sono decuplicati, la gente sta sempre di più in giro. Vi racconto questa piccola esperienza che stiamo facendo, io ho messo insieme, abbiamo messo insieme i ristoratori di eccellenza di Trani e anche uno di Biceglie, i ristoratori più importanti in passato non sarebbero stati assieme, adesso invece si chiama Aristotrani e dintorni, stanno collaborando, stanno addirittura immaginando di fare delle iniziative per poter portare a Trani più persone. Quindi questa è la dimostrazione di questa maturità che parliamo di ristoratori stellati, di ristoratori, diciamo di... Quella è la strada, io ritengo che questa sia la strada, è il momento giusto, bisogna percorrerla. No, noi stiamo sperimentando invece un discorso legato alla diversificazione, cercare di fare un nucleo di un'offerta che sia diversificata, perché anche quando si fanno le strade, avere tutto il pub con la birra sarebbe relativo. Fare invece la filiera, mettere sulla filiera la rete del turismo per noi è molto interessante, perché poi il pezzo della somministrazione è un pezzo, cioè non dimentichiamo che abbiamo grande confusione ancora sull'aspetto dei B&B, che invece devono offrire una ricettività di qualità. Spesso e volentieri pochi alberghi, almeno nel nord barese, e sempre magari medio-alti senza l'offerta bassa, che comunque deve essere di qualità, e da quel punto di vista io ritengo che si possa... Però lì B&B vanno a sopperire. Gli B&B sono tantissimi e sopperiscono, però bisogna anche capire poi se sono B&B, intanto con partita IVA, senza partita IVA, intanto quelli che sono con il codice, c'è una grande confusione su cui bisognerebbe cominciare a metterci mano anche nella BAT, perché spesso e volentieri potrà succedere nel prossimo futuro quello che è successo nel Salento quest'anno, che c'è un'offerta che non guarda alla soddisfazione del cliente, ma perché comunque alla fine siamo diventati di moda e la Puglia in questo momento, devo dire, ha raggiunto grande soddisfazione di visitatori. Io penso che anche lì bisognerà intervenire, tu devi comunque selezionare una filiera del turismo che parte dall'accoglienza di primo livello, anche con un'aggiunta di servizi che spesso e volentieri non ci sono. Pensiamo alle famiglie, pensiamo ai turisti che vengono, che spesso non trovano i parcheggi o che subiscono i furti, come dicevamo prima legati anche a questo episodio di malavite, c'è tutta una, come si dice, una teoria dell'accoglienza che da noi non è proprio perseguita. I ristoratori si stanno impegnando molto, quindi c'è anche questa, diciamo, tra virgolette moda. C'è il problema della professionalità. C'è da richiedere la professionalità. Tieni presente che quest'anno proprio anche i pubblici esercizi, che lo sapranno meglio di me, hanno trovato moltissima difficoltà a trovare personale qualificato, anche per i risvolti che noi sappiamo essere legati al reddito di cittadinanza. Ma il problema vero è che anche con le scuole bisognerebbe favorire maggiormente il confronto, perché mi diceva stamattina proprio un ristoratore, gente che viene anche dall'alberghiera di Margherita, che alla fine non sapeva tagliare il prezzemolo, per dire, no? Dobbiamo lavorare su questo, sulla qualità del servizio, ma non è detto che uno debba andare a uno chef stellato per mangiare benissimo. La qualità del servizio la puoi dare anche in una trattoria caratteristica che ti dà da mangiare prodotto tipico, locale, ad un prezzo, un giusto rapporto qualità-prezzo e magari ancora meglio, perché poi il turista chiede di vivere l'esperienza del territorio in cui ci va. Quindi è giusto che ci siano un po' tutti e noi su questo livello ci stiamo sforzando di fare. Io tra l'altro gestisco anche un B&B di Charm che trova difficoltà a ragionare con altri, proprio perché lì non siamo neanche arrivati al fatto che metterci insieme potrebbe essere un fatto positivo. Vabbè, ci proveremo ancora. Io volevo aggiungere una cosa che mi ritengo sia utile per, quando parliamo di reti, giustamente se faccio l'esempio semplicemente di tutti i ristoratori che si sono messi assieme magari non si comprende nemmeno bene, ma faccio un altro esempio anche che abbiamo fatto quest'anno, io ho delle spiagge importanti tra Biceglie e Molfetta, abbiamo fatto un accordo con dieci strutture ricettive di Biceglie e dieci strutture ricettive di Molfetta. Quindi una rete semplicissima, i B&B e gli alberghi che mostravano nel loro sito la possibilità di utilizzare il villaggio Lido Nettuno di Molfetta e loro hanno avuto un'impennata di prenotazioni perché chiaramente hanno potuto far vedere che avevano degli altri servizi spiegando che comunque dovevano spostarsi in macchia. Ecco questo è l'esempio proprio di come si può fare rete e migliorare la qualità del proprio servizio. Un'altra precisazione, a Bari non esiste un ristorante stellato, a Trani ce ne sono due, anzi erano tre fino a un po' di tempo fa. Perché dico questo perché stavamo parlando di alzare l'asticella della qualità e diciamo stiamo facendo delle cose importanti noi nel Norbarese, cioè non ci dobbiamo un po' abbattere perché le cose stanno fusendo. Se riusciamo a fare queste reti e se riusciamo a migliorare un po' il territorio, perché alla fine il turismo vuol dire vendere il territorio, perché se poi ne facciamo il turismo e però sulle strade c'è l'immondizia e tante strade intercomunali, anzi extracomunali sono piene di immondizia, bisognerebbe parlare anche di questo argomento. Sì, bisogna. Perché se andate in Valle d'Itria queste cose difficilmente le vedete. Si vedono. Ecco l'ultima domanda, siamo arrivati quasi in chiusura. L'avete toccato, l'avete sfiorato il tema. Il futuro potrà essere anche condizionato dal PNRR, cioè del Piano Nazionale di Resilienza e Ripartenza dello Stato. C'è qualche possibilità di intercettare con le vostre categorie questi flussi economici? Ma è soltanto di qualche giorno fa le prime informazioni su quello che sarà stanziato sul turismo. Poi il turismo vuol dire tanta roba, quindi dovremo capire che cosa... La cosa interessante però di queste misure è che funzioneranno a progetto, cioè se al Sud Italia verranno distribuiti un certo numero di miliardi non saranno distribuiti proporzionalmente alle regioni, ma in base alle progettualità che verranno fatte. Quindi cosa mi dico che dovremo essere pronti, veloci a fare delle progettualità? Lo dico a me stesso, ma lo dico a tutti coloro che dovrebbero farlo, perché dovrebbero farlo le associazioni di categoria marginalmente, ma assolutamente le istituzioni insieme a tutti coloro che si occupano di sviluppo e che hanno a cuore lo sviluppo di questo territorio. Chiarissimo. Io leggevo le dichiarazioni di Emiliano in conferenza regioni che lamentava come tutta la conferenza il fatto che molto si è concentrato nelle mani del governo e che poco poi verrà distribuito sul territorio o perlomeno gestito dal territorio. Si chiedeva alla regione di avere un maggior controllo di ciò che avverrà anche nei comuni, che comunque come si diceva dobbiamo aver sicuramente implementato progetto e progettualità che poi devono essere comunque fatte in pochissimi anni e qui il ritardo della BAT è endemico. Tieni presente che noi facendo parte del PES, del Partenariato Economico e Sociale, che è unico rispetto a quello di Bari, poi in Puglia non ce ne sono altri organizzati. Abbiamo da sempre chiesto invece, considerato che è stata persa l'esperienza del patto, è stata persa l'esperienza della pianificazione strategica, perdiamo anche l'esperienza provinciale. Di fatto oggi abbiamo dieci comuni che si presentano col cappello in mano in regione a chiedere qualche prebenda. Il problema è sempre il solito, fare rete anche nelle pubbliche amministrazioni e con le associazioni di categoria che stranamente ti hanno anche proposto di portare in Consiglio Comunale una delibera che fa sì che il PES diventi il tuo braccio armato per darti una mano noi come associazione, con i nostri tecnici, con i nostri progetti, con le nostre progettualità e stiamo ancora in attesa di capire se questa cosa si farà. Il problema è che il PNR avanza, io credo che sarebbe già tanto se i progetti almeno di dotazione infrastrutturale e di digitalizzazione funzioneranno almeno anche da noi, perché effettivamente il nostro territorio manca ancora di parecchi servizi. Tenete presente che nei prossimi due anni è caduta sta spada di Damocle sulle spiagge, con la direttiva del Consiglio di Stato e quindi si rimetterà tutto a bando. Non sappiamo chi investirà ancora sulle spiagge in questi due anni e poi coloro i quali le prenderanno quanto tempo avranno bisogno. Insomma la situazione è complessa, come sempre noi saremo lì chiaramente a chiedere di poter avere almeno un'interlocuzione molto veloce e immediata, perché per noi è un po' più semplice, per le pubbliche amministrazioni è un po' più difficile. Io credo e spero che il lavoro che la provincia sta facendo egregiamente con i sindaci ci porti a dialogare maggiormente perché si ragiona, si lavora, come sempre, si è sempre molto coesi, favorevoli, ma poi a concretizzarlo, per dire al fare ce li metto sempre il mare. Siamo arrivati in chiusura di questo spazio, abbiamo toccato tanti argomenti, siamo partiti dalla sicurezza, siamo passati dalla strutturazione delle imprese per poi arrivare anche ad immaginare il futuro di questo territorio che potrà essere sempre più turistico. Io ringrazio davvero di cuore Nicola Pertuso, presidente regionale della FIPE, la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi e ringrazio ovviamente Mario Landricina, direttore di Confesarcenti BAT, per la qualità degli interventi che avete messo in campo. E allora l'appuntamento per tutti e nei prossimi giorni sempre con speciale interviste. Grazie.